questo weekend esiteranno due gare pro open bodybuilding esiterà il legion sport a rino in nevada e la tsunami cup a roma questa è la lista iniziale del legion sport un bel po' di atleti però ne conosco pochi purtroppo quelli che conosco sono i seguenti ovvero Jamie Christian Justin Rodriguez, Tony Borton e anche Carlos Longoria che non ci stava nel collage comunque il ritorno di Justin Rodriguez e anche Tony Borton Tony Borton dopo aver fatto il Chicago Pro aveva detto che avrebbe interrotto la sua stagione agonistica per fare una nuova off season per acquisire più massa muscolare ma poi ha cambiato idea e ha deciso di gareggiare a rino a legion sport perché lui è di rino quindi gioca in casa poi ritorno anche di Justin Rodriguez ne ho parlato meglio in un video che ho fatto qualche giorno fa Justin ha fatto questa preparazione in segreto e si è avuto l'ufficialità solamente quando è uscita la lista iniziale quindi qualche giorno fa poi io avevo scritto anche in direct a Justin tre settimane fa quindi lo sapevo già che avrebbe fatto questa gara e poi abbiamo Jamie Christian che ha già fatto tre gare questa stagione anzi tre gare in tre settimane ha fatto la Yamamoto Cup a Padova quella in Francia e anche l'Arnold Classic e di gara in gara migliora sempre di più di gara in gara riesce a portare un look sempre più pieno e sempre più definito e questa ha detto che sarà la sua miglior forma di sempre cioè a legion vedeva la sua miglior forma di sempre secondo lui e secondo me è molto probabile perché lui continua a migliorare di gara in gara e poi l'ultimo che conosco purtroppo è Carlos Longoria alla seconda gara annuale atleta messicano seguito da Patrick Tour aveva fatto il Texas Pro dove era arrivato al settimo posto una prestazione veramente molto buona da parte sua mi è piaciuto il pacchetto che ha portato è arrivato molto più definito della sua ultima gara che aveva fatto che era il Toronto Pro nel 2021 ha veramente un buon fisico deve ancora però maturare un po' deve ancora coprire qualche buco però nel complesso ha una buona struttura ha delle gambe veramente impressionanti è anche una buona schiena gli serve solo un po' più di tempo comunque i favoriti per Legion Sports secondo me saranno Justin e Tonio bisognerà vedere in che forma arriverà Justin perché se arriverà nella forma che ha portato alle sue due ultime gare ovvero New York e Indy farà veramente molta molta fatica però il favorito resta lui poi sono curioso di vedere come risulterà Tonio accanto a Jamie e viceversa dato che Tonio è sotto il metro e settanta e Jamie è un metro e novantacinque quindi sono uno l'opposto dell'altro comunque secondo me la top 3 qui sarà composta appunto da Justin Tonio Jamie e o Carlos Longoria perché sono quelli che hanno più esperienza sono anche quelli più conosciuti però se qualcun altro dovesse arrivare in top 3 buon per loro benvenga passiamo poi a lista per la tsunami cup che si terrà a Roma questo weekend abbiamo qui meno atleti però forse questa sarà la gara un po' più competitiva tra le due nessuna è una gara di altissimo livello però questa forse è la gara che sarà un po' più competitiva per i primi due posti e anche per la top 3 abbiamo William Martins James Oningshed Mark Hector e anche Mohamed Elamama che non entrava lo stesso anche lui come Carlos ne collage allora il favorito qui è sicuramente James terzo posto per lui all'Arden Classic qualche settimana fa però sicuramente dovrà stare molto attento a Mark che alla scorsa gara alla Yamamoto Cup France è migliorato molto rispetto all'Arnold e secondo me migliorerà ancora questo weekend quindi secondo me James deve stare molto attento a Mark su tutto obiettivamente Mark è quello col fisico migliore con la struttura migliore James è molto stretto di clavicole però James è pieno di dettagli di separazione muscolare cosa che non ha ancora Mark Mark non ha ancora una pelle sottile come ce l'ha James però secondo me Mark migliorerà ancora questo weekend rispetto alla settimana scorsa poi abbiamo William Martins che lui vincerebbe qualsiasi gara se non avesse il problema della struttura lateralmente è un atleta fantastico per esempio in questo side chest è veramente incredibile uno dei migliori in circolazione però ha una struttura veramente sfortunata peggiore anche di Jamie vita non è troppo larga né troppo stretta però ha delle clavicole molto molto strette ancora più strette di James e dei dorsali veramente altissimi e poco sviluppati quindi sul front perde veramente molto recupera molto di schiena però lateralmente però il front è veramente un peccato comunque qui ripeto se giocheranno James e Mark secondo me William porta sempre una condizione impressionante un po' meno a mi pare una gara che aveva fatto quest'anno che era l'Arnold Classic Brasil lì era arrivato meno definito però poi aveva recuperato ad un'altra gara che ha fatto in Brasile quest'anno ci sono state tre gare in Brasile due già fatte e una che si farà a novembre un sacco di gare in Brasile e alla fine ci sono sempre 6-7 atleti e sono sempre gli stessi vabbè torniamo su Martins porta una condizione buona però che non è molto costante e se la giocherà con James per il più definito James per questa gara proverà ad ottenere un look con la stessa pienezza che ha portato all'Arnold però un po' più definito un po' più asciutto comunque favorito qui secondo me è James però dovrà stare molto attento a Mark terzo e quarto posto se lo giocheranno William Martins e Mohamed e la Mame comunque questi erano i pronostici per la Tsunami Cup e i Legion Sport che si daranno questo weekend fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere secondo voi chi vincerà queste due gare fatemi sapere come al solito mi raccomando vi chiedo di like e di commento e ci vediamo in un nuovo video e ci vediamo in un video